Ciao a tutti amici, come state? Spero bene, sono Roberta e oggi faremo un po' di motricità. Serve un po' di nastro carta, io l'ho messo già per terra, vedete? Per segnarci un po' l'ambiente. Allora, siamo pronti per iniziare? Pronti? Allora, iniziamo con un po' di riscaldamento, ti diamo su i pipini. Bravissimi, ti diamo su. Attenzione, stop, e apri e chiudo. Di nuovo su. Ok, adesso iniziamo un po' a vedere se siamo così bravi. Vediamo, dobbiamo provare a immaginare che questo bellissimo petettino di carta sia il nostro filo magico. e dobbiamo stare in equilibrio sopra il nostro petettino di carta. Provatelo anche voi. Insieme a mamma e a papà, fate un po' di prove. Attenzione, dovete provare a tornare all'indietro, eh? Senza mettere il piede nella lava. Uh, no, no, nella lava, no. Uh. E lo fate un po' di volte. Provateci avanti. e indietro. Attenzione, avanti e indietro. Bravissimi! Poi mi fate vedere, eh? Mavate i vostri video. E adesso vediamo un po'. Proviamo con i salti a destra e a sinistra. A destra e a sinistra. Provate insieme. Senza mai toccare, anche davanti e indietro, eh? Senza mai toccare lo scotch per terra. Attenzione! Tiriamo, usiamo bene le braccia per aiutarti a tirare su, eh? Pronti? Ok. Adesso, attenzione, vedete che ho fatto una specie di quadrato? Ok. Proviamo a saltare un po' a destra, un po' a su, un po' a giù, un po' a di lato, un po' a di lato, un po' a giù, un po' a su, via! Hop! Hop! Un po' come ci piace! Hop! Di diagonale, su, di lato, indietro, in diagonale, indietro, di lato, su! Potete sbizzarrirvi! Hop! 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 Volete anche andare con un piedino solo, eh? Hop! 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 Ho visto che vedete un po' troppo, bimbi! Allora, ci siamo? Adesso dovremo fare qualche saltello. Vedete, guardate il coniglietto come fa? Siamo i testi giù, così, e poi scacciare con i piedini. Noi lo facciamo lungo la nostra linea. Pronti? Via! Hop! Bravissimi! Non era per niente facile questo. E vi ricordate come fa la ranocchietta? Allora, apriamo le gambe, piedi luci, mano giù, e si salta! E si salta! E si salta! E si salta! Hop! Cari bimbi, siete stati bravissimi! Voglio vedere i vostri video! Ciao, a presto! 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 Grazie a tutti